Questa pianta sta sempre vicino al bosco, a Vigo, qualcuno ha le schitelle, qualcuno ha la foce, mi ha insegnato con un confraterno che adesso è morto, il Parlamento è così, ora mi fanno una corona e una spina santa e mi hanno portato e ho frequentato sempre a Dio, sono quasi 50 anni, quasi. Però mi portavano sempre insieme a loro, questa spina santa la fa, la fa, o da puncica, o non da puncica, la fa la stessa. Guarda questa qua, è come la spina santa questa, questo è pure qua, è come, però non è, queste già si mettono, questa è la spina santa. Allora... 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 ... Grazie a tutti. 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 Ok. 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 Ok.